Ben trovati da Malta, dove oggi intorno alle 13.40 si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.3. La scossa è stata avvertita anche in alcune località del sud della Sicilia. L'epicentro è stato localizzato nell'isola di Gozzo, un'isola che si trova a nord dell'isola principale di Malta. La scossa è stata avvertita anche in alcune località, alcune tra le più note, quali St. Julian, San Juan e anche Luca, dove ha sede proprio l'aeroporto. Proprio all'aeroporto la scossa è stata avvertita soprattutto dai dipendenti che lavorano negli uffici delle compagnie aeree al primo piano della struttura dell'aeroporto internazionale. Ma da quando hanno riportato da alcune testate maltesi non si sono registrati danni a persone o cose.